Sta suscitando molto scalpore lo scandalo che ha travolto Josh Dagger, il primo genito della famiglia extra-large del reality 21 sotto un tetto. Mentre con papà Jim e mamma Michelle andava in onda mettendo in piedi un reality da 40.000 dollari a puntata, Mr. Family Day tradiva la moglie Anna. Questo hanno scoperto alcuni hacker che sono entrati nel più famoso sito di incontri extraconiugali Ashley Madison e hanno pubblicato nomi, indirizzi mail e numeri di telefono. Anche Josh Dagger quanto pare avrebbe avuto una doppia vita. Sul sito DaggerFamily.com arrivano le scuse ufficiali da parte dell'uomo che in passato era stato anche accusato di aver molestato 5 ragazze di cui 4 erano sue sorelle. Nel lungo comunicato Dagger ha ammesso di essere prima diventato dipendente dal porno e poi di aver iniziato a tradire la moglie, mentre in tv professava di credere fermamente nel valore della famiglia. Sono stato il peggiore degli ipocriti, ha scritto Josh. Mentre seguivo i valori della fede e della famiglia sono diventato infedele a mia moglie. Chiedo umilmente il vostro perdono, leggiamo ancora nella dichiarazione ufficiale. Per favore pregate per la mia preziosa moglie Anna. Josh è stato estromesso dal consiglio di famiglia, lo show è stato sospeso ma la moglie Anna a quanto pare è rimasta al suo fianco. Grazie a tutti.